Il cuore non si viene la portietta, non c'è, non si viene il maschio, c'è, non è il 70% Il cuore non si viene la portietà, non si viene la portietà, non si viene la portietà, non si viene la portietà Ma questi come si ritrova? Il terna patrocinio? Sì, le tue panettaglie non sono molto sviluppate, però fanno...